Con oltre 400 positivi al giorno cresce la media dei contagi da Covid-19 nella provincia dell'Aquila. Ieri è stata toccata la soglia dei 500 positivi, di cui 277 nell'area aquilana, 176 nella Marsica, 40 nella zona Peligna e 10 a Castel di Sangro. Sette contagi sono di fuori regione. In isolamento domiciliare sono oggi 6.436 persone, mentre 3.589 in isolamento fiduciario. 80 sono le persone ricoverate in ambito medico e solo 4 in terapia intensiva. Un grande supporto a ostacolare la recrudescenza della malattia la stanno dando le terapie a base di anticorpi monoclonali insieme agli antivirali. In particolare da circa due mesi si trattano con questa terapia all'ospedale San Salvatore dell'Aquila le fasce di persone con fragilità di salute, 65 anni di età e presenza di sintomi importanti. La cura si eroga con un solo trattamento in regime di The Hospital, una degenza di tre ore per sicurezza e poi di nuovo a casa. Gli anticorpi monoclonali pervengono dalla diffusione del virus nell'organismo. In particolare essi evitano l'attacco del virus sui recettori cellulari e attualmente disponiamo di un anticorpo monoclonale chiamato Sotrovimab che è particolarmente efficace sulla variante Omicron. Perché sono importanti? Perché vanno utilizzati quasi esclusivamente sui pazienti cosiddetti fragili, cioè pazienti con malattie croniche, tipo diabetico scompensato, persone che hanno problematiche oncologiche, con malattie croniche come insufficienza cardiae, insufficienza respiratoria, insufficienza renale. Quindi è molto importante utilizzarli nella fase precoce della malattia e hanno un ruolo fondamentale insieme agli antivirali nel prevenire la diffusione del virus all'organismo. I sanitari individuano tre fattori di rialzo della positività. Un Omicron 2 molto diffusiva, il freddo ancora permanente e sicuramente l'allentamento delle misure di precauzione.